Una volta compreso cosa sia un campo, non ci possono essere più dubbi su questioni di scavalcamento. Tutte le considerazioni sulla regola dei 180 gradi non fanno che complicare quello che in realtà è un concetto semplicissimo. Quindi, cos'è un campo? Un campo è l'insieme di tutti i punti macchina che lasciano invariata la relazione destra-sinistra tra gli elementi in scena. Se una volta spostata la camera, quello che appariva a sinistra si trova a destra, ho scavalcato. Tutto qua. Non c'è modo di sbagliarsi. Un esempio pratico di una situazione semplicissima con implicazioni che possono apparire complesse se non si considera cosa sia un campo. Due personaggi in una porta. Partiamo da un master in campo medio. Prendiamo come riferimento il personaggio 1. Rispetto a lui, sia la porta che il personaggio 2 si trovano a destra. Ciò significa che per guardare il personaggio 2 o la porta, il personaggio 1 deve guardare a destra camera e che per raggiungere la porta al personaggio 2, il personaggio 1 si deve muovere verso destra camera. Spostiamo la macchina. Porta e personaggio 2, dal punto di vista della camera, si trovano ancora a destra rispetto al personaggio 1. Siamo nello stesso campo. Vediamo che succede se piazziamo la macchina qua. La porta è ancora a destra del personaggio 1, mentre il personaggio 2 si trova alla sua sinistra. Abbiamo scavalcato. In questo campo potremmo tranquillamente riprendere il movimento del personaggio 1 verso la porta, ma non, se vogliamo mantenere il campo, proseguire un dialogo iniziato nel master tra personaggio 1 e personaggio 2. Questo perché, mentre nel nostro master il personaggio 1 guardava il personaggio 2 a destra camera, ora, in questo nuovo campo, lo guarda a sinistra camera. Semplicissimo. Proviamo un altro punto macchina. Da questa posizione vediamo il personaggio 1 che per raggiungere la porta, che rispetto a lui si trovava a destra nel master, ora deve spostarsi verso sinistra camera. Evidentemente siamo scavalcati. Se in montaggio dividessimo il movimento del personaggio 1 verso la porta tra il master e questo punto macchina, vedremmo il personaggio spostarsi prima verso destra e poi verso sinistra, il che sarebbe disorientante soprattutto se per il campo scavalcato scegliessimo un'inquadratura che non include la porta. Lo spettatore non solo vedrebbe il personaggio cambiare direzione, ma perderebbe anche il riferimento del suo punto d'arrivo. Da questo punto macchina potremmo però proseguire un dialogo tra i due personaggi iniziato nel master e mantenere la coerenza visiva col secondo punto macchina che abbiamo ipotizzato per un classico campo contro campo. Questo schema di ripresa che abbiamo ora sotto gli occhi viene definito sistema a triangolo ed è il sistema più utilizzato e meno fantasioso per raccontare un dialogo. Un ultimo test. Scegliendo questo punto macchina, tutto ciò che prima appariva a destra del personaggio 1 ora appare alla sua sinistra. Chiaramente siamo scavalcati sia rispetto alla porta che al personaggio 2. Se avessimo affrontato queste analisi utilizzando un concetto come la regola dei 180 gradi, sarebbero nate discussioni sulla linea di interesse, la linea d'azione, se mi cerchio sopra, se mi cerchio sotto. Se invece si abbandonano le formule e si fa riferimento agli sguardi e alla direzione dei movimenti, tutto diventa semplice. Se un personaggio che guardava un punto a destra camera ora guarda lo stesso punto a sinistra camera, evidentemente ho scavalcato. Se in un'inquadratura un personaggio si muoveva verso destra e quando ho staccato sul suo primo piano l'ho visto uscire a sinistra camera, evidentemente ho scavalcato. Non c'è molto su cui interrogarsi. Esistono però delle situazioni in cui gestire i campi richiede particolare attenzione. Ciò non significa che la comprensione dei campi diventi difficile. Quello è sempre banale. Significa solo che per la scelta dei punti macchina è necessario tener conto di fattori aggiuntivi. Facciamo un esempio classico. Un dialogo a tavola tra più persone. Questo è uno di quei casi in cui scavalcare il campo diventa necessario. E quindi la scelta dei punti macchina deve avvenire in maniera molto consapevole, avendo ben presente come sarà montata la scena. Facciamo che questo è il nostro master. Da questo punto macchina possiamo ottenere un totale in cui vediamo chiaramente tutti i personaggi. Per un dialogo tra E e B, volendo battere dei primi piani, posso semplicemente spostare la camera prima a destra per riprendere A e poi a sinistra per riprendere B. La direzione dei loro sguardi in questo modo sarà coerente con quanto osservato nel master. A guarda a destra camera, B a sinistra. Perfetto. Ora il dialogo è tra E e F. Se non voglio riprenderli da fondo tavola con un teleobiettivo e quasi di profilo, mi devo necessariamente avvicinare. Posiziono la camera qua per il dedicato su F e sul lato opposto per quello su E. A questo punto però E rivolge la parola D e lo guarda a sinistra camera. Nel master lo avrebbe guardato a destra, quindi sono in un altro campo. La cosa di per sé non è un problema. Per far tornare gli sguardi è sufficiente che il primo piano di D io lo batta da questo punto macchina. Ora però D rivolge la parola da e chiaramente guarda ancora a destra camera. Per il piano su A riportiamo quindi la camera in questo punto e gli sguardi tra E e D si incrociano. Resta il fatto che D per le sue battute verso A risulterà decisamente a sfavore camera, che i punti di ripresa hanno angolazioni completamente diverse e questo può disturbare quanto uno scavalcamento, e che dopo questo scambio tra D e A potrei aver bisogno di tornare sul master, campo nel quale la direzione degli sguardi tra i due personaggi era opposta. Allora la soluzione potrebbe essere aggiungere un'inquadratura, prendere le battute di D verso A da questo punto macchina e battere il piano su A da quest'altro punto macchina. Ora gli sguardi tra i due personaggi non solo si incrociano e si rispecchiano come angolazione, ma rispettano le direzioni stabilite nel master, al quale di conseguenza posso tranquillamente tornare in fase di montaggio. Tutto semplicissimo dal punto di vista teorico, ma poco sensato dal punto di vista dell'esecuzione. Per questa manciata di inquadrature sono andato avanti e indietro su uno stesso punto macchina già una volta e ho continuamente spostato la camera da una parte all'altra del tavolo. Questa è una scena esemplare per quanto riguarda l'importanza del piano regia. Il solo modo per girare una sequenza simile in maniera efficiente è avere consapevolezza di tutte le inquadrature necessarie e di come saranno montate. Solo così sarà possibile scegliere per ogni battuta il campo giusto ed esaurire in sequenza tutti i punti macchina senza andare avanti e indietro da uno all'altro. Quando si deve girare qualcosa di semplicissimo come un dialogo tra due persone sedute, si può anche arrivare sul set con giusto l'idea di battere un campo a due due primi piani. Ma se il dialogo è tra sei persone, o si sa bene come quei piani saranno montati, o è matematico che si finisca per prendere a schiaffi lo spettatore con continui scavalcamenti. Ciò detto scavalcare non è che sia il male, è solo uno dei tanti strumenti del linguaggio cinematografico. Lo scavalcamento di campo diventa un problema quando non è ricercato e quindi controllato. Nei casi in cui non sia possibile programmare le riprese, esistono comunque delle soluzioni per pararsi le spalle. Per esempio si può battere un master in ogni campo così da avere sempre un quadro sul quale staccare il montaggio per fornire delle nuove coordinate destra-sinistra prima di ogni scavalcamento. Ovviamente così facendoci si può trovare dover staccare su un campo largo quando magari la storia richiederebbe tutt'altro. Un'altra possibilità è battere tutti i primi piani utilizzando una quinta dell'interlocutore. Questo non salva dagli scavalcamenti, ma evita il problema degli sguardi che non si incontrano quando due primi piani vengono battuti in campi diversi. Gli sguardi continuano a non incrociarsi, ma non ci sono più dubbi che i due personaggi si stiano parlando perché la quinta dell'uno è presente nell'inquadratura dell'altro. Ovviamente questi sono palliativi. Il solo modo per portare a casa un buon girato è girare bene. E sapere cos'è un campo in questo senso è fondamentale. Per fortuna, come abbiamo visto, si tratta di un concetto banale. Imparare a gestire campi invece è regia.